Ciao a tutti, perché ti innamori delle persone difficili da conquistare? Prima di approfondire questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, sarebbe molto più semplice trovarti il bravo ragazzo, la brava ragazza sotto casa, chi già di suo ti ama, ti vuole bene, è portare avanti la tua relazione tranquillamente senza andarti a innamorare delle persone difficili, palesemente diciamo sbagliate per te, persone che abitano molto distanti, persone che non sono interessate ad avere una relazione come la vuoi tu, se vuoi una relazione stabile, insomma una relazione simile a quella che vuoi tu, persone che già sono impegnate, persone che hanno altre cose per la testa. Allora, tutti noi diciamo così abbiamo difficoltà a innamorarci spesso delle situazioni migliori per noi, poi effettivamente sono migliori per noi. E questo perché accade? Perché capita tutto questo? Potremmo dire che più sofferenze abbiamo avuto in una fase infantile, più tendiamo a innamorarci proprio di persone difficili, di persone che ci generano sofferenze. E questo è un dato di fatto. Ci innamoriamo in base alle sofferenze vissute. Valutiamo e giudichiamo gli altri in base alle nostre necessità emotive. Quindi può succedere proprio che ci si coinvolga con le persone più sbagliate. Ci coinvolgiamo sulle pene d'amore. E' ovvio che non è tanto la nostra sfera cognitiva, la nostra sfera logica, la nostra sfera razionale che si coinvolge su queste situazioni, bensì la nostra sfera emozionale, la nostra sfera emotiva, quella sfera che non ha difficoltà ad innamorarsi sulla base delle sofferenze, quella sfera che non ha difficoltà ad innamorarsi sulla base di quello che gli genera tensione, perché è lo stesso tipo di tensione che è già vissuto da bambino. E quell'imprinting, diciamo, quella sofferenza vissuta in una fase infantile, è proprio questo imprinting a creare le condizioni per tutti i successivi incontri della nostra vita. Saremo portati, quindi emotivamente, a dare stima e considerazione alle persone che hanno le stesse modalità comportamentali delle figure genitoriali che ci hanno fatto soffrire, delle figure genitoriali che hanno amplificato i nostri malesseri. E allora entreremo in tutta una serie di amori che possiamo definire sempre amori difficili, sempre amori sbagliati, cambieranno gli attori, cambieranno il contesto, cambieranno molte situazioni, ma la scena è immutabile. Il bagaglio delle nostre esperienze e gli accadimenti in essi contenuti costituiscono la base, diciamo, delle nostre esigenze emotive e quindi determinano il tipo di persona, il tipo di relazione che andremo a vivere. È ovvio che essendo governati dai nostri disagi, dobbiamo tenere presente che gli altri non sono diversi da noi, quindi come siamo noi sono anche gli altri. Anche gli altri si coinvolgono sulla base delle sofferenze vissute, sulla base dei disagi emozionali, sulla base delle emozioni compresse. E quindi quale sarebbe l'obiettivo che dovremmo imparare a sviluppare? Beh, quello di ridurre un po' i nostri conflitti interiori in modo tale da non essere più propensi a vivere situazioni sempre uguali, sempre costanti, che di fatto poi ci fanno soffrire. E imparare, diciamo, invece nella comunicazione con gli altri a incarnare i disagi per avere verso gli altri un'empatia emotiva, non tanto un'empatia logico-razionale. Quella è abbastanza facile, diciamo così, da acquisire, ma dovremmo imparare ad avere un'empatia emotiva. Questo ci dà un enorme potere di seduzione nei confronti degli altri, che ci percepiranno come le persone giuste, cioè in grado di incarnare le loro specifiche esigenze emozionali. Questo ovviamente è molto utile, perché, diciamo, ci permetterà di condurre l'altra persona nella direzione delle nostre esigenze fondamentalmente. Però dobbiamo, per fare questo, esserci liberati dai nostri turbamenti, perché altrimenti sarà difficile mettere in atto tutto questo. Un po' come aver imparato le tecniche della balistica, a sparare con la pistola, ma poi avere la mano che trema. Difficilmente riuscirai a fare centro, difficilmente riuscirai a prendere, diciamo così, il bersaglio. E quindi devi, bisogna imparare, a lavorare su due fronti. Un fronte interno e un fronte esterno. D'altra parte, la realtà che noi andiamo a percepire è sempre un po' un mix di quello che noi siamo dentro, una proiezione di quello che noi siamo dentro, è un'interazione di quello che noi siamo fuori. Potremmo dire che la realtà esteriore è una proiezione con l'interiore e viceversa. Noi siamo co-creatori della nostra realtà. Quindi dobbiamo fare che cosa fondamentalmente? Beh, intanto diventare artefici della nostra autoalimentazione emotiva. Cioè essere in grado ogni giorno di regalarci degli spuntini emotivi, di regalarci delle emozioni, di regalarci delle emotività. Perché questo regalarsi delle emozioni, questo regalarsi delle emotività, ci consente di essere, diciamo, autonomi, di non andare, dover andare a lemosinare emozioni in giro. Quindi ogni giorno fai delle cose che emotivamente ti possono pagare. Ogni giorno fai delle cose che ti possano dare dei benefici emotivi. Viviti. Fai la scelta dell'imbarazzo anziché avere l'imbarazzo della scelta. Tutto questo ti permetterà di essere una persona emotivamente appagata. Ti permetterà di essere una persona che sa, come dire, che non ha bisogno di andare a lemosinare le emozioni in giro. È evidente che se fai una vita noiosa, ti circondi di persone noiose, fai una vita, diciamo, limitata da un punto di vista emotivo, è evidente che non riuscirai a raggiungere i necessari benefici per vivere bene, per essere in armonia con te stesso, con te stessa, e con tutto quello che ti circonda. Per riuscire a ottenere veramente dei benefici, devi darti delle emozioni, in modo tale che si crei un'alleanza indissolubile tra te e la tua parte emotiva. Questo sul fronte interiore. Sul fronte esteriore, come dicevo prima, dovrai capire che è davanti, quindi mappare le esigenze emotive dell'altra persona. Non è difficile, se segui il mio corso, la mia playlist su questo canale della comunicazione non verbale, sarà tutto semplice, perché la parte non verbale delle persone ci dichiara automaticamente quali sono le sue esigenze. Se una persona, tu parli di tradimento e questo si tocca le labbra, paradossalmente ha l'esigenza di essere tradita, sarà una persona che si innamorerà magari non di chi la tradisce a livello logico, ma di chi le fa generare il dubbio che potrebbe tradirla. Tieni presente che il dubbio è seduce, il dubbio è estremamente seducente, non c'è nulla che seduce come il dubbio. Quindi agire in questo modo dà dei grossi vantaggi, dà dei grossi benefici. Quindi si tratta di andare a seminare nelle diverse aree delle emozioni e cercare di capire dove agganci la persona. Ecco, questo è il modo per conquistare, per sedurre, per ottenere dei vantaggi da un punto di vista emozionale, sia nei rapporti con se stessi, sia nei rapporti con gli altri. Bene, per questo video è tutto. Scegliami anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!